Io conto sulle scuole, conto sulle imprese, sui nostri progetti, per poter dare un piccolo contributo, però, sentitutivo, alla valorizzazione del socio-pistorico, affinché dappure di sempre più una capitale della cultura, della bellezza, e sia una messaggera di quelli di solitamente Nell'ex ospedale della Pace sono state presentate le attività del progetto di conoscenza e diffusione del valore universale del sito UNESCO Centro Storico di Napoli, che prevedono formazione e istruzione nelle scuole rivolte a docenti e studenti degli istituti comprensivi Confalonieri, Foscolo, Oberdan e Ristori, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza della storia e dell'evoluzione del Centro Storico di Napoli. Gli studenti realizzeranno prodotti multimediali ed editoriali sul territorio, le tradizioni e la cultura locale. Oggi abbiamo avuto la possibilità di incontrare i bambini e gli studenti delle varie scuole che hanno presentato i loro progetti molto interessanti, molto ricchi e rispunti e potremmo poi, alla fine di questo percorso, avere dei prodotti che saranno sicuramente utilizzati e valorizzati all'interno di una progettualità di promozione del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale. Questo luogo è il luogo deputato ad essere, secondo un progetto avviato con la professoressa Maria Filippone, un luogo dedicato appunto all'educazione e alla formazione delle giovani generazioni, delle generazioni di studenti napoletani, che noi intendiamo appunto, attraverso questi progetti condivisi educare sicuramente alla scienza, alla carità e all'arte di cui questo luogo è stato per circa quattro secoli e oltre testimone. Un'occasione importante di apprendimento, ma anche di ritorno alle origini, alla memoria, all'identità del territorio, del contesto urbano, proiettandosi però in un'ottica cosmopolita. Una nuova vita in un vissuto identitario che si è perso in parte e che noi vogliamo rivalorizzare e rifunzionalizzare attraverso questo tipo di percorso, attraverso proprio questa modalità differente che parte proprio dai giovani e che deve essere poi la linfa per un trasporto intergenerazionale che a volte invece è stato separato e che noi cercheremo di riattivare.